Vabbè, ok. Allora, alle mie spalle sta per arrivare la grafica che fa riferimento a una bella cosa, perché il Torino FD ha trovato lo sponsor, è la Bayres, è una società, una giovane società immobiliare, e insomma ci fa molto piacere perché questo permette davvero ai ragazzi di poter giocare senza nessun'altra preoccupazione. E a proposito del Torino FD, noi andiamo a vedere adesso un'intervista che ha realizzato la nostra Paola Gatti a Claudio Girardi, che è il capitano della squadra, e l'intervista è stata realizzata pochi minuti prima dell'inizio della partita contro il Brescia. Noi oggi vi abbiamo visti sfilare qui allo stadio con la Dalle Carli a Cap, che appunto vi siete guadagnati, vi siete meritati in Svezia a luglio, allora vogliamo parlare di questo evento? Sì, è il secondo anno consecutivo che vinciamo, il secondo anno che andiamo praticamente in Svezia e vinciamo la Coppa. È un torneo bello, bellissimo, in una nazione bellissima, piena di natura, comunque verde, e 300 squadre c'erano, di ragazzi under 18, normodotati, e all'interno c'era questa parte, questa sezione dedicata ai disabili, con 16 squadre, con il Chelsea e altre squadre internazionali, quindi è stato un bel evento, è un bel orgoglio comunque portare i colori del Toro anche all'estero. Io da tifoso del Toro sono contentissimo. Allora, Fabio. No, dicevo, vedendo questo servizio, meno male, meno male che il Torino FD ha trovato finalmente uno sponsor, il Torino FD è un'eccellenza, vince tornei, abbiamo sentito, vince gare, ha dato mi pare 9 o 10 giocatori alla Nazionale disabili, un'eccellenza, senza uno sponsor è una vergogna, quindi meno male che qualcuno si è messo una mano sul cuore, l'altra sul portafoglio, anche se è brutto dirlo, perché si va avanti anche di queste cose, meno male, quindi bene, bene, complimenti. Come insegni che comunque non è la prima volta che noi forniamo 10 giocatori alla Nazionale di Calcio. Sì, beh, certo, infatti volevo fare il paragone che penso che a casa sia già arrivato. E poi voi mi servite anche l'assist perché è aperta, finito.